Ma di questa meraviglia vogliamo parlarne? Guardate un po', consistenza perfetta. Allora, ho montato 5 uova con 40 g di olio di vinacciolo, ho messo solo un cucchiaio di zucchero raso, un pizzico di sale e ho montato a lungo queste 5 uova con un po' di vaniglia, un po' di polvere di vaniglia, sapete che ce l'ho dentro nell'elenco, diciamo. Con l'olio e 150 g di farina di quinoa. Poi ho aggiunto 3,5 t di albume montato a neve e una manciata di gocce di cioccolata. Quindi prima l'ho montato bene, poi l'ho mescolato bene, poi ci ho messo questi. Ho unto la formina del pandoro con dell'olio di vinacciolo, glielo ho messo dentro, ha cotto quasi un'ora a 180 gradi. Poi, vedete voi, gli ultimi 10 minuti glielo ho fatti fare fuori dalla formina, così si è asciugato bene. Devo dire una consistenza perfetta, con un po' di zucchero a velo per chi può. Ah sì, avevo messo anche 3 pipette di stevia per dolcificarlo un po'. Quindi, diciamo, un cucchiaio solo di zucchero raso e 3 pipette di stevia. E' proprio bello, poi è anche buono, poi ha una consistenza veramente perfetta, mi piace molto.